Hello ragazzi di Chat Training Cap, bentornati qua su Railway Empire Come sempre ragazzi vi invito a lasciare tanti beh mi piace E vi ricordo come sempre che in descrizione trovate un link per poter comprare il gioco scontato Allora ragazzi nell'ultimo gameplay ho continuato ad inserire binari no? Qui c'è il doppio binario, qui è doppio, qui è doppio Manca però il doppio binario tra Nampa e Elko Ancora c'è il binario singolo Devo quindi assolutamente iniziare a piazzare il doppio binario Quindi cominciamo quantomeno a piazzarlo Lo pago pure Poi qua mi manca, mettiamo il gioco veloce Qua manca il doppio binario Devo quindi accumulare il necessario 54.000 dollari per mettere il doppio binario Perché ragazzi più lo facciamo bene il percorso è meglio va Allora vediamo un po' qua ci uniamo Paga Teoricamente al momento non passa nessuno dal binario che ho piazzato qua Ok cos'è? Ehm al momento purtroppo non ho soldi E non posso neanche fare altri prestiti perché già ho raggiunto il massimo Ho già raggiunto il limite massimo Allora questo è il binario che va avanti quindi poi devo mettere il binario che torna indietro Ok Vediamo un po' la segnaletica Allora Devo mettere che Vabbè da destra si va dritto E poi si torna indietro da questa parte ovviamente Allora qua purtroppo non ci... Ah eccolo Eh no Sì veramente eccolo così Perfetto Quindi fino a qua ci siamo Vediamo questo binario Io devo cancellare poi questo binario qua Ok Mi sta a rompere la scatola sto tizio Vediamo un po' allunque io devo cancellare questo Va che costruisci ok allora Vediamo la segnaletica Ma vabbè praticamente la segnaletica è già corretta Ovviamente questo non va più bene Questo non va più bene Devo cancellare tutto ciò Vabbè questo rimane così ma non importa Questo va bene Questo va bene Dunque quindi si arriva per di qua Qui si ferma torna indietro Teoricamente è corretto Vediamo se funziona Ah rompono proprio le scatole Sti cavolo di avversari raga Ok pare che funziona Quindi mo pure qua c'è il doppio binario Devo assicurarmi che funziona bene raga Perché se no succede poi un bel grosso problema Poi va a finire che i treni si bloccano E mi tocca buttare un treno Va bene pare che funziona alla grande Perfetto quindi i treni vanno Vanno abbastanza bene Aspettate se non ricordo male Ho dimenticato la segnaletica Nel gameplay scorso Avevo dimenticato qua Di mettere una fermata L'ho dimenticata pure qua Ok Perché è importantissimo Se no veramente ci rimaniamo fregati Se uno non mette la segnaletica Ci resta fregato Ok mi assicuro che ci sta pure qua La segnaletica Ma pare di si Pare che va bene Ok i treni ragazzi scorrono I treni scorrono Allora un'altra cosa devo assicurarmi Raga Ah già ricerca Vediamo un po' Vagone della posta Vagone refrigerato Vagone ristorante Ehm Vediamo quello della posta Quale mi conviene Cosa trasportiamo Per lo più La posta la trasporto Sì Eh già Piliamo il vagone della posta Mi conviene Ok Sblocchiamo il vagone della posta 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 Questo è E il vagone della posta A sto punto Lo andiamo a mettere Tipo qua Vagone della posta Della posta Più 20% Profitto Merci posta Ehm Chi altro è che Questo trasporta pure La posta Quindi mettiamo il vagone posta Qui c'è pure posta Praticamente I treni fanno un po' Tutto Quindi a sto punto Tenere un vagone dedicato Alla posta Mi conviene Visto che si guadagna Qualcosina in più Bene Un'altra cosa Che devo Controllare Allora Manca una torre di rifornimento Qua E ce la mettiamo Mi manca Poi Ragazzi Anche Un edificio Per la manutenzione Lo mettiamo qua Se no i treni si rompono Troppo spesso Poi Se non ricordo male Non ho ancora creato Un percorso Che porta cereali Quindi Nuovo treno Nuovo treno Macchinista Per ora Non ce n'è Linea Allora A Spokane Portiamo Giustamente Il Come si chiama Devo portare I cereali Ma i cereali Più o meno Servono Dappertutto Quindi Mi conviene Fare Come sempre Facciamo così Baker City Torni indietro Baker City Non prendi niente Poi Andiamo Annampa Annampa Non prendi niente Torni indietro Vai A Elko E A Elko Non caricare niente Quindi Questo è un treno Per cereali Scriviamolo Cereali Così non succede Qualche cavolata Lavoro di squadra No Troppi soldi Non ce li ho Allora Diamo un'occhiata Allora C'ho due prestiti Veramente grossi Da dover restituire Dov'è che avevo speso Oh Qui Le azioni Ricordate Il 3% Le avevo prese Tipo Non mi ricordo A 20 28 mila dollari Le avevo prese Già valgono 75 mila Sì ma I miei avversari Ragazzo Assurdi Guardate sto tizio 55 treni 17 treni 41 E il povero Nicche Con 7 treni Mi sento Veramente Un poveraccio Cos'è Collegamento All'omento Il carbone Non serve a nessuno Credo che è carbone Non ne so sicuro Vediamo un po' La situazione qua All'omento Profitti dalle fabbriche L'esperienza No No All'omento Non mi interessa niente Vabbè Aspettiamo di accumulare Un altro po' Di punti Allora 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 Quindi un treno Già in più L'ho preso E notiamo Che sta trasportando Cereali E fino a qua Ci siamo Vediamo Che altro Potrei fare Ragazzo Perché praticamente Devo impegnarmi A far crescere Le città Se la città Cresce Arriva una fabbrica In più E quindi C'è più roba Da poter mandare In giro Per far crescere La città La città Deve essere Rifornita Più in fretta Di materiali E cose varie Allora C'è bisogno Di zucchero E c'è bisogno Di mais Ma il mais Non lo stiamo Trasportando Già Il mais È qua Com'è finita Con sto mais Come si chiama Roberts Eccolo qua Roberts Non ne trasportiamo Abbastanza Mais Vuol dire Perché manca Non lo so Non stiamo Trasportando A sufficienza Ma torna indietro Con il mais Questo Com'è possibile Ragazzo Sta tornando indietro Con il mais Baker seat È piena di mais No Ma non lo scarica Il mais Devo capire un attimino Cosa fa sto treno Ragazzo Perché torna indietro Con il mais Se a tutti Serve il mais Non è una cosa Normale Eh Quando mai Non sto a capire Cosa fa sto Caspita di treno Con il mais Perché non scarica Il mais Mo' sta cosa La dobbiamo Assolutamente capire Ah Intanto posso restituire Un prestito Quasi quasi È una cosa Che devo assolutamente Fare Così Cominciamo un po' A stare più tranquilli Via Un prestito E meno Allora Scarichi sto bene Dov'hai con sto mais Te lo porti in giro A passeggio Vediamo un po' Che succede Con sto mais Ragazzo Perché io non capisco Il mais serve Non lo scarica Sta andando a Elko A Elko Il mais non gli serve E gli serve sì Ce n'è poco Anche i cereali Mancano Io non capisco Vediamo un po' Che succede Vediamo se lo scarica Ragà Deve Non lo scarica Ma è impossibile C'è qualche bug Non vedo altro motivo Per non scaricare Sì devo guardare i miei treni Sì c'ho i treni che non scaricano È un serio problema È un serio problema Vabbè a sto punto ragà Io non so il motivo Devo cambiare qualcosa Facciamo manuale Manuale Ovviamente Manuale Gli devo spiegare la situazione Quindi scarica Quindi scarica E per forza Non c'è altro Altro motivo Io non lo so Perché è un problema serio Perché se non scarica E non guadagniamo C'è un treno che va in giro Inutilmente È un problema molto serio Allora Vediamo mo Se col manuale Scarica Mo sta tornando indietro Mo torna indietro Vuoto Facciamo così Chiamiamolo mais Se no poi mi dimentico Qual è il treno giusto Bene Tra poco ci diamo un'occhiata A sto treno Allora Che abbiamo qua Carne Vagone ristorante Per i biglietti Oh c'è questo È il treno espresso Fatto apposta Per Credo Beh Per portare la gente in giro Solo la gente Piliamo questo Allora Espresso Questo qua Lo dobbiamo cambiare Sto treno Quindi Si chiama Renna Attualmente Come si chiama Il treno attuale È quello vecchissimo Allora No 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 Compriamo Compriamo sto treno Quantità da pagare 50.000 Ok raga Mo abbiamo un treno nuovo Ci abbiamo Una renna Che sfreccia Che sfreccia Nei binari Raga Ve lo faccio vedere Giustamente Anche da vicino Sto treno Mazza come va Veloce 62 km orari Raga Mo si che è un treno Espresso Guardiamolo un po' In prima persona Raga Bello Questo è un bel treno Peccato che va in giro vuoto Ecco perché va in giro vuoto Ecco un altro problema Da risolvere Un altro treno Che se ne va in giro vuoto Mazza come corrono Ma questa a me Non mi sembra 60 km orari A me mi sembrano 200 km orari Devo dire Raga Accidenti Se va in giro Veloce Allora Vediamo un po' Se carica qualcosa Io qua Comincio ad avere dubbi Cioè i treni Che non caricano niente Non scaricano Eh non carica niente Pure questo Mo Ma è normale C'ho problemi Raga Problemi Problemi Questo teoricamente Può caricare Quello che gli pare Piace Io ho solo detto La priorità E la posta E i passeggeri Però se non ci stanno Carica quello che vuoi E non carica niente Mo Vediamo quello col maestro Ok il maestro L'ha caricato Almeno lo sto scaricando Finalmente Oh È già qualcosa Ecco perché poi Uno ha problemi Raga Perché uno è convinto Oh Alla grande I treni vanno in giro Carichi Si poi non scaricano E che guadagno Se non scaricano Riduce la spesa Settimanale Per il personale Questo è carino Però Per ora con i treni Va bene Anche così Eh Fabbriche non ne ho Vabbè Allora Pgliamo quello Pgliamo quello Della spesa settimanale Va Ok Quindi col maestro Ci siamo Il treno espresso Voglio capire Che cavolo combina E non carica niente In fase di scaricamento Ma non carica niente Raga Non carica niente Sto treno Perché per me È un bug Non posso pensare Ad altro Eh Bonus collegamento Mi sa che ne vale la pena Raga L'azione Devo fare in fretta Però Ok Allora Sì Chi ce li ha Un milione Di dollari A chi ce l'ha visti Questo Allora Sto binario Lo devo portare Più o meno Più o meno Lo portiamo qua Accidenti Con i soldi Il ponte Il ponte Paga Ok Quanto meno Il binario Diciamo È quasi a gratis Quanto meno Un milione e quattro Ma guardate Quanti soldi Che hanno I miei avversari Un milione e mezzo I miei avversari Sono strarricchi Raga Io non c'ho una lira Sono un po' oraccio Con i debiti Boh Vabbè Ma io manco campo Qua più Tra poco Quindi Teoricamente Se arrivo a 150 mila Comincio qua A collegare St'altra città Con il doppio binario Ovviamente Mi conviene Mettiamo il gioco veloce Vediamo se riesco Un pochettino A mettere Sto doppio binario Ah già che ci siamo Diamo un'occhiata Agli avversari Va così Mi sciocco un po' Eh guarda qua Guarda qua 60 70 Ma guarda qua Quanti binari Paghiamo Ok Sono cavoli amari Per Nick Ragazzi Sono cavoli amari Veramente Sono cavoli Allora Mettiamo La segnaletica Ovviamente Già qui è corretto Ovviamente Però mi manca Una cosa Qua sotto Il binario Per tornare indietro E sto combinando Qua Allora Segnali 1 2 2 E 3 1 E 2 Ok Allora E qua ci siamo Ho collegato anche quest'altra Città Devo mettere una bella fermata Qua Una bella fermata Qua E una bella fermata Qua Ok Una bella fermata Qua Qua Mi sa che non va bene Ok Allora Vediamo un po' E mo abbiamo collegato quindi Un'altra città Perfetto Abbiamo fatto una bella cosa Ora Ho già restituito un prestito Vero? Sì Perfetto Devo quindi collegarmi qua C'ho il cosiddetto Treno espresso Che di espresso Non ne fa Quindi niente caffè Diciamo Bella la battuta E Sto treno Non trasporta nulla Non so il perché Facciamo da capo Tutto il percorso Magari si sbaga Facciamo tutto da capo Anzi Non lo so io Ah facciamo Solo passeggeri E posto Tanto so bene Che non funzionerà Probabilmente Però Io ci provo Vediamo un po' E poi torna indietro Sì Solo passeggeri E posta Mi fa modificare Qualche cosa No va bene così Ehm Accetta Che altro Potevo fare Dimentico qualche cosa Credo di no Tra poco Teniamo d'occhio Sto treno Ehm No Ho sbagliato Ehm No Cos'è Aumenta Il numero di passeggeri Vai Aumentiamo Dell'8% I passeggeri Ho altri 100 punti Non li posso spendere Da nessuna parte Fuochista Assumiamolo Espresso Gestione treno Fuochista Va bene Va bene così Oh e sto treno Continua ad andare In giro vuoto Ma io come faccio Raga Non capisco Se qualcuno di voi Ha più o meno Un'idea Del motivo Perché sti treni Vanno in giro vuoti Eh Ah finalmente 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 Vagone della posta Così guadagniamo di più Dalla posta Vediamo un po' Finalmente sta funzionando Vediamo se scarico Ovviamente Raga Però Guardate com'è bello Tutti i treni Che vanno in giro Senza grossi Grossi problemi Ma non ce n'è Conducente Assumi Lo assunto Che ho fatto Si Ehm Gestisci treno Conducente No Non vanno d'accordo Quindi proviamo Con un altro treno Va bene Espresso E' rimasto ancora Bloccato qua Perché siamo rimasti Bloccati C'è qualcosa Che non quadra Se siamo rimasti Bloccati Ok Devo mettere Qualche fermata Qua in giro Forse Metto qualche Fermata Una fermata qua Una fermata qua Ok Espresso E siamo ancora qui Ah perché c'è un treno Fermo Eh si E' in manutenzione Ok Forza 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 questa manutenzione Andiamo Vediamo se scarica Sto caspita di treno Espresso Ancora non te muovi Devo mettere qualche segnale Più o meno qua Ok Così sto treno avanza Finalmente Vediamo se In fase di scaricamento Vorrei sperarci Ma non scarica Ah finalmente Beh ha scaricato Poche e niente Ok Il nemico Raga purtroppo Mi deve rompere Le scatole Eccolo qua Purtroppo Mò mi stanno cominciando Ad invadere Notate che Mò La signora qua Anzi addirittura Era un maschio Quello che parlava Quindi la signora Mi sta fregando Il mais E qualcun altro Si è collegato Da qualche altra parte Forse No Un milione Non ce li ho Questo coso qua sotto Non ce li ho Bonus collegamento Cosa Bonus la nuova industria Eh io non ce li ho I soldi per la nuova industria Però se ce la metto io È mia Se ce la metto È mia Dovrei farmi in prestito E ce la butto io Una bella industria qua Ma mo' c'è in prestito Va Mamma mia Ragazzi Stiamo messi in malissimo No Questa non è roba mia Non è roba che mi compete Veloce Dov'è Allora Oltretutto Mi dà anche un bonus Carne Ok Quindi mo' io ho Un'industria qua Di mia proprietà Teoricamente Ho un'industria Di mia proprietà Nicche In più L'ho pagata un po' di meno Perché il gioco Mi ha dato un bonus Ok Ora con i soldi Che mi avanzano Penso che restituisco Uno dei due prestiti Non mi bastano i soldi Ci vogliono ancora Undicimila Vai Ok Almeno non mi so Fatto sfuggire La fabbrica Perché se non ce la metto Io la fabbrica Ce la mette il nemico E quindi poi ci resto fregato No Allora Ora qui ci vuole carne 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 In grasso Vediamo un po' Dove la portiamo Sta carne Ah no Così non va bene Così non va bene Non sto trasportando Affatto carne Devo rifare tutto da capo No Cancelliamo tutto Manuale Allora In grasso Quindi Lo portiamo Serve un po' Dappertutto Allora Qua Quindi Ok Mo un attimino Il vagone posto Lo devo togliere Devo togliere Il vagone Della posta Qui a sto treno Non gli serve più Quindi da capo Quindi carica Scarica Mo faccio un attimino Sto coso Raga Ok raga Fatto Quindi A chi serve la carne Mo il treno Gliela porta Beh ovviamente Mo è partito vuoto Perché ho creato Il percorso adesso Quindi Porterò Naturalmente I bovini Nella mia nuova fabbrica Allora Vediamo un po' La situazione Treni 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 No 200 punti Cos'è questo A momenti Profitti delle fabbriche Vai Ora che c'ho Una fabbrica Vale la pena farlo Ok Niente Comunque Non siamo messi Tanto bene Oltretutto Oltretutto Mi fanno pure La cattiva pubblicità Cioè Questi sono strarricchi E se la pigliano con me Eh Livello ridotto Sta andando un po' male Eh Di poco Macchinista Allora Assumi Assumi Espresso Assegnano Non va d'accordo Giustamente Conducente Non serve Allora Macchinista E guardia Maronna Che è sto tempaccio Ok Allora Mais Sta andando Espresso Sta andando In grasso A momento Va in giro Vuoto Bello A saperlo Lo cavolo Vai Vuoto Non va Manca a caricare Oh Eh Mi sa che qui Raga Non lo so Speriamo che Forse Eccola Dov'è Ok Mo' siamo combinati Male Raga Annampa C'ho la concorrenza Mo' purtroppo Annampa C'ho la concorrenza E mo' si comincia A mettere male Perché man mano Che questi Si allacciano Alle mie città Mi fanno pure La concorrenza La vedo tosta Sta partita Eh La vedo un bel po' tosta Comunque Vediamo se serve Una bella torre Di rifornimento Si Ce ne vuole una qua E un'altra Ci vuole qua Ok Beh Ho fatto Io sto a fare il possibile Sto a fare proprio il possibile Raga Vabbè Io penso Raga Che per il momento Mi fermo qua Quanto meno Cos'è C'ho un treno in più O qualche treno un po' più Aggiornato I debiti Come stiamo combinati Uno l'ho restituito Ho restituito Un debito Eh Una fabbrica Qualcosina in più Raga L'abbiamo fatta Però è chiaro Che Contro a qualcuno Che c'ha 100 treni Per dire 80 70 30 Ah come faccio Stacci dietro io a questi Non ce la faccio Intanto guardate come aumenta il valore delle azioni Eh Tra un po' Se l'evento ci piglio qualche spiccio Ma niente di più Va bene raga Quindi concludo per il momento Questo gameplay Voi come sempre Se avete qualche suggerimento Da darmi Ovviamente non esitate a commentare Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Se volete supportare questa serie E vi ricordo Ancora una volta Che in descrizione Trovate il link Per poter comprare Questo gioco scontato Ragazzi vi saluto quindi Ciao alla prossima Ciao 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 Ciao